ciao oggi vi voglio insegnare come ci possiamo confortare quando siamo in un momento di difficoltà di ansia di dolore ad esempio il nostro corpo che è una macchina perfetta quando una donna sta per partodire durante il parto si attiva una ghiandola che si chiama ipotalamo che produce la sostanza chiamata ossitocina che permette sì l'attività contrattile ma soprattutto aiuta questa donna a sopportare questo grande dolore dei studi hanno visto che 30 secondi di abbraccio o un forte contatto fisico produce ossitocina e allora chi è che non ha almeno 30 secondi da poter dedicare un abbraccio a qualcuno che in ansia o in quel momento ne ha veramente bisogno beh soprattutto perché l'abbraccio è gratis ciao alla prossima di eccellenza per il benessere